Anche Sereno in conferenza stampa è stato uno il passaggio, forse quello più bello, particolare, la svolta. La svolta, si è stata tante volte, la svolta nella carriera di Montella da giocatore, da uomo o da allenatore. Questo può essere un momento di svolta? Io penso di sì, anche penso di sì perché nei momenti difficili, di difficoltà, personalmente riesco a trarre meglio di me. Ora non sto a sindacare se sia più o meno giusto la dimensione del taglio di difficoltà che ci viene attribuito, ma sicuramente questo è un momento di crescita e quindi di svolta assolutamente. Io sono pronto, sono motivato, sono energetico e sono volenteroso e anche un po' ansioso di scendere in campo. Alle 16 ci faremo vedere l'allenamento live, ma alla nostra sinistra, Davide, c'è il campo di allenamento e c'è soprattutto lo spogliatoio, dove lunedì c'è stato un doppio incontro con Montella e la dirigenza prima, con Montella e la dirigenza e la squadra dopo. Non ti chiediamo gli argomenti, chiediamo un po' qual è l'umore, il clima oggi a 72 ore dalla fine di quella partita. Io ho pensato molto in queste ore, ho fatto un'analisi attenta, penso anche equilibrata, che è la cosa più importante, e non umorale. L'ultima prestazione sicuramente è stata a scialba al di sotto di quello che il livello del Mila deve essere, di quello che vogliamo essere. Io credo che bisogna lavorare sull'aspetto psicologico, nel senso anche sostenere alcuni ragazzi, che giovani, che indossano la maglia gloriosa, importante e pesante come quella del Milan. Abbiamo il campo per cambiare questa tendenza, abbiamo le partite che poterlo dimostrare. Io vedo e sento soprattutto una società vicina, che mi sostiene, mi aiuta, mi sta vicino, nelle persone di Mirabelli e di Fassoni, quindi sono molto fortunato in questo. È importante che la società si faccia sentire, che ci dia sostegno, come ha dato a me e come dalla squadra, per poter crescere e migliorare ulteriormente. Chiariamo una cosa, perché noi in conferenza abbiamo sentito, l'addio di Marra non è né un segnale né una scelta che è stata fatta da Vincenzo Montella, ed è una scelta, non è un segnale da dare all'ambiente. C'era qualcosa che non andava, ci carisce anche un po' quello che è successo nell'ultima ora, con un collaboratore che di fatto per te fa parte quasi di casa. Emanuele è una persona che ringrazio profondamente e che voglio profondamente bene. È un fratello, di cui ne ho tanti nel mio staff, perché per me sono come una famiglia. Non avevamo più la stessa visione, c'erano delle leggere divergenze. Io credo nei ruoli chiave, soprattutto nei ruoli importanti all'interno di uno staff, di un gruppo, di una squadra, che sia molto più importante avere un'idea sbagliata, ma portarla avanti tutti insieme, piuttosto che tante idee giuste ma diverse tra loro. Avevo scorto questa piccola differenza e a grande fatica ho dovuto prendere una decisione che era inevitabile. Emanuele augura tutto il meglio, lo sa che io voglio bene e sono certo che anche per lui questo sia un momento di crescita ulteriore, sia come persona che come professionista, che ripeto ringrazio tanto, non rinnego nulla, siamo arrivati insieme a Milano, perché il percorso è iniziato insieme, però c'era questa divergenza. Prima di lasciarlo Davide a te allo studio, ci ripete come era la questione se il Milan vince, non leggo i giornali e non guardo le tv, se il Milan perde invece mi carico al contrario guardando le tv e i giornali, ha visto anche Sky allora? Sì, guardo Sky, io mi riferivo alle letture però, sono molto più pingenti. No, non c'è tempo a leggere tutte, però io credo che la mia carriera da calciatore prima e da allenatore dopo sia stata costellata sempre da situazioni traumatiche che poi mi hanno fatto crescere. Da calciatore ho subito 13 persone di cui anche uno al cuore dove mi avevano detto che non potevo più fare sport e se potrei essere noioso o diventare noioso non mi va. E da calciatore ci sono dei passaggi, dei momenti che c'è bisogno di una svolta e nella reazione dopo una difficoltà si capisce il livello anche della persona e dell'allenatore che devi essere. Andre Silva gioca uguale, un ragazzo di 21 anni, un ragazzo che proviene da un campionato un po' diverso anche quello tedesco è leggermente diverso, ma quello portoghese ancora di più. Quanto sia stato pagato non è un compito mio, sicuramente ha bisogno di crescere, di adattarsi alle difese italiane che ti lasciano almeno mezzo secondo in meno per pensare, per giocare anche in termini di spazi. Quindi è soltanto una questione di adattamento che anche lui arriverà a dimostrare le sue immense potenzialità. Cianalogo è un giocatore di grande talento che sta giocando così come sta giocando Bonaventura e giocando ogni tre giorni è inevitabile che ci possa essere un leggero o un reale o un ipotetico turnover. Cianalogo viene da mesi in cui non ha giocato, non ha giocato perché è squalificato e quindi è arrivato anche con poca abitudine ad avere una continuità di partite ravvicinate anche e soprattutto a livello fisico. Quindi è arrivato il nuovo campionato, un giocatore di talento ha bisogno del suo tempo di crescita ha bisogno di crescere talvolta anche riposando secondo me perché non si può giocare ogni tre giorni, lui non può giocare ogni tre giorni per questi motivi e quindi c'è il nostro sostegno e la nostra fiducia perché è un giocatore di talento. Grazie. Grazie.